Le hanno spiati per giorni, appostamenti, immagini, video, tutto per sgominare una delle più grandi piazze di spaccio dell'area nord di Napoli. Le immagini che vi stiamo mostrando sono chiare ed esemplificative di quanto è stato registrato e documentato dalla polizia. Il tutto avviene alla luce del sole, nelle vele di Scampia. Si vedono vedette, uomini che si drogano, che fumano, che enalano droga tra le scale e sui ballatoi. Dopo accurate indagini, la polizia ha infine arrestato nove persone, tutte parte integranti della grossa piazza di spaccio, ed ognuno con un ruolo e funzioni specifiche in un sistema criminale consolidatosi nel tempo specifici di scontro all'attività illecita. Si sono poi ottenuti con l'arresto di vari spacciatori e il sequestro di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti nel corso delle indagini, protrattesi per alcuni mesi. I destinatari dei provvedimenti risultano collegati al gruppo criminale Vanella Grassi, operante a Scampia e Secondigliano, e per conto del clan gestiscono l'attività di spaccio degli stupefacenti. Il supermercato della droga era fornito di tutto, cocaina, cobret, amnesia, la nuova marijuana, trattata con sostanze chimiche che oltre a provocare forte assofazione produce effetti molto simili a quelli dell'eroina. Oltre ai 9 arrestati, nell'inchiesta figurano altri 15 indagati, tra i quali anche 10 donne. Oggi abbiamo scominato un'organizzazione criminale dedito allo spaccio di sostupefacenti in una delle piazze di droga più importanti della zona di Scampia, Le Vele. Sono state arrestate al momento 8 persone. Durante le indagini erano state altre arrestate un'altra decina, colte in fragranza di reato. Si tratta di persone che devono rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti e all'organizzazione capeggiata da un soggetto esposito Marco. Con le indagini, oltre ad aver acquisito elementi di prova per gli arresti di oggi e durante tutte le indagini, abbiamo anche verificato uno spaccato di quello che è l'attività di spaccio su Scampia, con vedette che prima guadagnavano cifre enormi, adesso fanno questo lavoro estenuante per 12-16 ore al giorno, costretti a mangiare sul posto e per effettivamente poche lire. Le indagini mostrano chiaramente come le vedette posizionate ai vari angoli della vela dovessero restare lì in forma praticamente stabile, non potendosi allontanare neanche per i più normali bisogni fisiologici. Dalle immagini si inquadrano alcune vedette che durante le fasi di spaccio operano i loro bisogni fisiologici sul posto di lavoro, qualcuno addirittura sniffa cocaina durante le operazioni di lavoro, qualcuno invece si vede che consuma il pranzo proprio nel piatto di plastica, proprio sul posto di lavoro, non distaccando lo sguardo dalla strada, quindi pronti ad avvisare i correi dell'arrivo delle volanti.